Uno che esce con le credenziali della scuderia, ha il mondo sotto illa, lo dica nel microfono, ha il mondo sotto illa, lo dica nel microfono, ha il mondo sotto illa, il mondo sotto illa, il culo, hai detto culo? Sotto illa? Sede, sotto il sede, il ragazzo è educato! Ah, la doccia del talento! Gerry! È una mia invenzione di quest'anno, Maria! Gerry! Gerry! Questo parlo, scusa, scusa il mio paziente! Anzi, la scenda un attimo! Ehi, ehi, ehi!